non crede che tra tutti i doverosi contributi che il governo sta riservando ce ne possano essere alcuni mirati alla diffusione di biciclette come mezzo di trasporto per esempio per la vita quotidiana per andare al lavoro e ad esempio prevedendo sgravi per chi la usa e incentivi come in Gran Bretagna e Olanda ministro perché non immaginare la nostra città con nuove piste ciclabili un caro saluto Vincenzo Nibari